Sa tutto, c'è da fare una riduzione per metterlo nel portafoglio e poi basta. Ha avuto difficoltà a stamparlo? No, stamparlo no. È stata immediata, la farmacia è stata molto sollecita. Ecco, lei è già chiaro dove dovrà utilizzarlo da domani? No, se me lo chiedono ce l'ho. E lo porterà sempre dietro? Evidentemente, è una tesserina. Ci siamo, sono le ultime ore e poi dal 6 agosto 2021 in tutta Italia scatterà l'obbligo del Green Pass per poter accedere ad alcuni servizi dai locali al chiuso ai cinema, teatri e musei. Se serve lo utilizzeremo dove ce lo chiedono, una volta che ci sa. Non mi creerei grossi problemi per questo fatto del Green Pass. Si porterà sempre dietro? Si porterà dietro come si porta dietro la carta d'identità, la patente. La cosiddetta carta verde, ottenibile in seguito alla vaccinazione o sottoponendosi a un tampone con esito negativo o di infine se guariti dal Covid, sarà necessaria infatti in molti luoghi al chiuso, ma non solo. Avete già stampato? Unito è super favorevole. Avete già stampato? Vi è chiaro quando dovrà essere utilizzato? Eh, ce l'ho sul cellulare. Il pass riguarderà infatti ristoranti, bar e pub. Chi non è in possesso del documento potrà accedere a questi locali soltanto nei posti a sedere all'aperto. Una restrizione che riguarda però solamente il consumo al tavolo, mentre per quello al bancone non sono previste restrizioni. In qualche modo bisogna andare avanti, quindi, insomma, per noi e per gli altri. Quindi io ritengo una cosa opportuna. Non è tanto chiaro il fatto che l'utente, diciamo, debba essere munito di Green Pass, mentre invece chi lavora all'interno non deve vaccinarsi obbligatoriamente. Divieto poi di accesso senza certificazione verde anche nei luoghi di spettacolo e cultura, come cinema, teatri, mostre e musei. Senza Green Pass sarà evitato anche l'accesso agli spettacoli all'aperto o ai grandi eventi sportivi, anche se non al chiuso. Sempre seguendo lo stesso principio, sarà poi impedito l'accesso a sagre, fiere, congressi, parchi, divertimenti, ma anche centri sociali, culturali e ricreativi. Nessun ingresso senza certificazione verde, poi in palestra e piscina al chiuso e anche nei centri benessere. Infine, non essere in possesso della certificazione impedirà alle persone anche di partecipare ai concorsi pubblici, escluse invece tutte quelle attività ritenute essenziali, quindi si potrà continuare ad accedere ai supermercati e ai centri commerciali. Già stampato senza problemi? Siamo sul cellulare. Sul telefono, sì. Sì, 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 assolutamente. E' chiaro come quando dovrà essere utilizzato da domani? Ma, diciamo, quando ce lo richiederanno lo esibiremo. Siamo abbastanza tranquilli.